Salve a tutti e bentornati su New Super Mario Bros. Deluxe Nello scorso episodio abbiamo cominciato il mondo 6, Minieri di Caramella E in questo episodio completeremo questi 3 o 4 livelli, sì ancora non mi sono deciso Cominciando da Minieri di Caramella 3, Nido degli Pterotondi Ok, questo livello è un po' diverso rispetto agli altri perché non dobbiamo andare avanti ma dobbiamo andare su Oh, sono stupido Eh sì, si possono liberare i cinciom Ecco ci sono delle monete Però qua non c'è la moneta stella La moneta stella è un po' più avanti E ho già perso il fungo perché non sto attento Ah, comunque si può togliere con un solo colpo Ok La moneta stella è esattamente qui Se non esce una pianta piragna, ok Ora Dovrebbe Oh no, mi serve il fungo Ok, dovrei fare Non posso No Ok, allora facciamo che mi butta su qua Ritorniamo nel livello e stavolta cerchiamo di non perdere subito il fungo Anzi facciamo così Stavolta evitiamo proprio il cinciom Perché tanto ci da solo monete che sono abbastanza inutili Ok No, no, sì Uh, ok Vai E stavolta dovremmo esserci Dovrebbe essere questa No, è la seconda Ok Ah, comunque è abbastanza inutile visto che si può tornare comunque su Quindi Ah, non so perché Cioè se volete prendere anche altre monete Fate pure Tanto si può Non ho capito il motivo Ma va bene così Ok Ora No Grazie Grazie mille E qua mi ha rivelato probabilmente anche una ghianda Che era molto più utile Ok, adesso Vediamo di liberare il cinciom Mentre stanno andando di qua Ok E Uno Due Luna La luna vi dà tre vite extra È un'altra particolarità di toilet Come ha fatto a non prendermi Ok Qua c'è questo che vi serve Per la seconda moneta stella Vai Eccola qui Checkpoint E andiamo di qua Vediamo se questo procede qualcosa No Ok Questa dovrebbe essere piuttosto facile a prendere Allora Dovrebbe essere qua a destra Ah, intanto Qui Prendiamo questo Vediamo che cosa c'è Uh Tripla vita Extra Ah, e qua c'è la moneta stella Avrei preferito prendere la vita extra Però Non importa Prendiamo questa Che è più importante E Vai Eh, non posso Ok Adesso Prendiamo Questa vita extra Almeno E È fatto Occhio perché qua ci sono un bel po' di questi scoiattoli Che vi daranno problemi Per fortuna però Con Eh, questo power up Scenerete molto lentamente Ok Uh Non mi ha fatto danno Perché non mi ha fatto danno Non lo so Non importa Va bene così In queste monete Sì Mi sto amilizzando Per la Terza volta Ok E se non li votiamo al fine No Vuole prendere la cima Vabbè Potevo anche metterci un secondo di meno E avrei preso Quello Cioè il Non so parlare oggi Il Power up extra Ok ce l'ho fatta Ora andiamo No Andiamo Giù Miniera di caramella 4 Tra le bombe nel buio Ok Adesso Dovrebbe essere molto Vicina La Prima Moneta stella Qua c'è una stella Ok Dovrebbe essere molto vicina Infatti è qui Ok Vai Altra stella Queste stelle Saranno molto 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 Comode Ok Vi permetteranno di vedere Tutto Quanto Ok Altra Ah e se la prendete Uff Va bene Oh no Aspetta Oh ok Dicevo Se prendete Un blocco Con la stella Quando siete Normali Vi usciranno Unità Quindi questi blocchi Potete prenderli Solo E soltanto Quando avete Quando avete Già un'altra stella Ok Andiamo in questo tubo E adesso Devo aspettare Ah Oppure fare così Perché forse È anche più utile Ok Non abbiamo più La stella Però Fa niente Oppure No infatti Lì c'era Una stella Normalmente Però Siamo normali Quindi Non importa Ok Non dovrebbero Eserci più Stelle Qui dentro Che è un po' Un problema Però Neanche troppo Grossi Fireflower Che ci serve Ok Rattiviamo questo Magari così Ci vediamo qualcosa No Ok Siamo qua sopra Vi farà rimbalzare Che è molto divertente Dov'è? Dov'è il blocco? Ah Non so Però So che adesso Vorrei riattivare Questo Ok Vai Uh Eccolo Ah La moneta stella Dovrebbe essere Là sopra Dietro Il firebore Eccolo lì Ouch Mimiche C'è un altro Pai rapido A qualche parte Qui Per favore Ne ho bisogno Posso? Grazie Ok No Non importa Andiamo alla fine Basta Ah Molto carino Qua vi mostra Come i Album Arrivano Dentro Ok Non morire Adesso E Quasi Ok Ora Andiamo Forse Non nell'ultimo Livello Perché sono Solo 8 minuti Quindi Potrei riuscire A fare di più Scarrossamento Paoloso Minini caramella 6 Ah no Aspettate Questo è 6 Quindi Forse In quanto vedete Prima fare il 5 Che è Quello là Qua sopra In effetti È anche utile Questo Però Non importa Io con questo Intendo Il Baby Yoshi Che ho indicato Però naturalmente Voi non potete Vedermi Mentre Indico Ok Ora Sarebbe Molto Utile Avere Un power up Ghianda O colonna In questo momento Non so se Me lo darete mai Però Mi sarebbe Molto Molto Comodo Allora Fatemi guardarmi Appunti Va bene Di qua Ok Dovrebbe Essere Qui Ora Tirate Questa Pupa Per Sconfiggere Queste piante Piragna E Lì Romperò Un blocco Ok Fiore Ghiaccio Perfetto Molto utile E Dovrebbe Essere Qua sotto Ok Prima Presa Ah Non l'ho neanche Fatta apposta In realtà A ghiaccella Ora Da qualche parte Qui Dovrebbe Eserci Forse Qua sopra No Anzi Facciamo che Direttamente Rompo questa Ok Forse Non ce la faccio Neanche con questo Power up O forse si No Ok Peccato Perché Dovrebbe essere Qua sopra Però Però Non saprei Come Raggiungerlo Quindi No Non si può fare Senza Ghianda Dove la prendono Ghianda Non lo so No Ok Non posso Prendervi In mano Quindi Un vino Un po' Direttamente Uh Eccola lì Ora Possiamo Prenderlo Ok Su Ed eccoci qua Eccola lì Ora Devo Fare Così Ok Perfetto Ora Andiamo di qua E Con sopra c'è qualcosa No È solo di sfondo Ok Allora Scendiamo Allora Vediamo I miei punti Dove è l'ultima Ok No Qua non Sblocca Il Checkpoint Perché oggi Non riesco a parlare Non lo so Allora Ah Ok Ok Ah Eccola qui Non si riega neanche Guardare gli appunti Ok Dobbiamo fare Così E Fare il sottopredito A meno che non riusciate Già ad arrivarci Alla prima Ah Tanto per C'è anche Tanto per dire C'è anche Toadette Ghiand Toadette Scoiattro Però non so se riesco a prenderlo No Ma Lasso il love Viene comunque Adesso dobbiamo solo Arrivare alla fine Ok Vai Vai Prendere una vita extra E Ce l'ho fatta No 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 Non cadere Non cadere Ok Addio E Fin Un secondo Ah Volevo prendere 222 Ok Ok Ora Andiamo Nel livello 6 6 Giusto Questo dovrebbe essere Il mondo 6 Si Scarrossamento Pauroso Ok Questo si può fare Anche con il minifungo Non so perché Visto che non vi da Nulla Però si può fare Probabilmente Vi da solo monete Perché qua c'è un tubo Grande da cui Non si può entrare Ok Adesso vi faccio Sentire una cosa bella O forse andrò ancora Ecco qua Si dice la prima moneta stella Però In generale è molto bello Questo Treno Deschio Non so Sette L'antavo da là Due Ok Dammi La vita extra E Vai qua Eh si è normale Che sia un rosa Non è Delle immagini Dammi questa No Non vi buttate di sotto Per nessun motivo Dovrebbe essere Qui vicino La prossima Dovrebbe essere Oh no È Lì davanti Ok Uno Due Tre Ok Presa Questa vi serve Per prendere La moneta stella Prima di ce ne saranno Altre di stella Non per quattro Tipo Ui Dammela però Dammela Dammela No Ho perso La terza Help Help Per favore Non ce l'ho fatta Facciamo che Ci rivediamo direttamente qui Sì Oppure No 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 Ci rivediamo direttamente là A dopo Ok Ce l'ho fatta Oh Finalmente Eh si Ho mancato la seconda Quindi devo ritornare qui Però almeno La missione più difficile L'ho completata Altra stella E adesso Potete andare qui Per prendere L'ultima Moneta stella Ok Ah si Ho preso altre Dueite extra Perché Insomma Ho morto Un altro periodo Ok Ah Ancora per un secondo Non ce l'ho fatta Ok Ci siamo quasi E Ecco qua Adesso Ci vediamo alla fine E decido A fare anche un altro livello Ok Livello completato E Vediamo se riesco A fare anche un altro livello Però Dovrei Riuscire Ma si Siamo solo 20 minuti Eh si dai Possiamo farcele Però Mh Nel prossimo episodio Rimarerò solamente Due livelli No facciamo così Mi tengo questo Per il prossimo episodio Quindi Intanto faccio anche una cosa Ok Vedrete Poi Ah no Aspettate Devo anche andare Da di qua Vedrete Poi domani No Da Qui Ok Intanto Comincio a salutarvi Quindi Nella prossima parte Di New Super Mario Bros. Deluxe Completeremo Il mondo 6 Quindi Sì Alla prossima